Sì, ho sto qui Nankinec, ciao a tutti, oggi voglio tornare a parlare di America perché sono successe delle cose importanti, due in particolare che infiammano la campagna elettorale tra Biden e Trump, le campagne presidenziali per le elezioni di novembre. E vorrei cominciare parlando di un episodio travisato a dir poco dalla stampa italiana globalista dell'ovest europeo, comunque tutto, e voglio parlare del centro da cui parte tutta la propaganda a favore di Biden, dei democratici sempre più spostati a sinistra, cioè il Guardian, il fulcro da cui parte la propaganda. Perché il giornale inglese? Perché guardate un po' come titola il 9 ottobre, quindi qualche giorno fa, sul tentato rapimento della governatrice democratica del Michigan, parla di gruppo di destra, cioè di estrema destra. È un giornale, quindi possiamo dirlo, è neomarxista di estrema sinistra globalista. Il Fatto Quotidiano, quindi la stampa italiana, riprende il Guardian in sostanza e in media di sinistra americani, come la CNN, eccetera, eccetera, e parla di parole di Trump, grido di battaglia per estremisti e riporta le parole della governatrice del Michigan, dando la colpa automaticamente, implicitamente, ai gruppi di estrema destra, aizzati dal presidente americano Trump. E poi c'è TGCon24, che è un medium liberale di destra, cioè berlusconiano, che parla di piano per rapire la governatrice Biden contro Trump, e parla di gruppo della galassia di estrema destra esplicitamente, e riporta le parole di Biden. Donald Trump deve sapere che le parole che usa contano, e quindi fa una campagna spudorata a favore di Biden. E' assurdo, no, per un medium berlusconiano che dovrebbe essere di centro-destra, ma comunque i liberali sono sempre liberali, andremo a vedere alla fine del video. Il Washington Times sbugiarda questa lettura della situazione, del grave crimine che stavano per fare alcune persone ai danni alla governatrice democratica del Michigan. Infatti, il Washington Times, ma molti altri media come il Washington Times, parlano delle indagini che sono andate avanti da parte dell'FBI, che ha sventato tutto prima del tempo, per fortuna. Brandon Caserta, questo è il nome del capo del gruppo, parlava in dei video di nemico Trump, come c'è scritto, parlava di Trump come un tiranno, ed è un anarchico, quindi è di estrema sinistra. E quindi, come si vede in questo video, in questo tweet, faceva dei video con dietro la bandiera anarchica. Dunque, il rapimento non era stato programmato dalla opposizione alla governatrice democratica, da destra, dall'estrema destra, ma dall'estrema sinistra, la sua sinistra, intollerante e violenta. Ora, andiamo a vedere quello per cui avete cliccato il video, il titolo. Cioè, un conservatore è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un antifa, cioè da un anarcho comunista, a Denver, ad un raduno di patrioti pro-Trump, in contemporanea ieri con il BLM Antifa Subdrive, cioè un ritrovo di BLM, Black Lives Matter e Antifa, dopo uno scontro verbale tra un manifestante e conservatore e una guardia di sicurezza privata assunta dalla filiale locale della televisione pubblica NBC, Nine News, cioè globalista di sinistra. I trampiani prendevano in giro con dei cori il comunismo e sostenevano la polizia. Apriti cielo, lo scontro è diventato fisico, prima l'uso di una mazza da quelli di destra, poi quello di un'arma da fuoco da quelli di sinistra, lo riferisce la polizia locale di Denver. Il conservatore muore, gli agenti compiono due arresti. Andiamo a vederci il video contenuto in un tweet. E l'arresto, l'arresto di due persone. Vedete una situazione molto, molto tesa. Le indagini sono ancora in corso, comunque la dinamica è tutta da accertare. La guardia di sicurezza in custodia, come titola invece il giornale locale Denver Post. Poi intanto gli Antifa stanno festeggiando la morte del conservatore di Denver su Twitter, con tweet come questi, messaggi terribili della tollerante, non violenta, contro la violenza e l'odio estrema sinistra. Una piattaforma Twitter che si dimostra, una piattaforma sociale perfetta per la sinistra, capace solo di censurare Trump e i profili del gruppo di vicera Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, dei governi conservatori dei paesi evidentemente di destra, nazionalisti o comunque patriottici. Popper infatti avvertì, Popper il grande maestro della London School of Economics di Soros, Non possiamo tollerare gli intolleranti, diceva il grande liberale, il paradosso della tolleranza, per cui i liberali decidono cosa è intolleranza e cosa è tolleranza. La sinistra non è mai intollerante e violenta, quella è solo la destra conservatrice.